Sono state prese d'assalto da giovani del posto e turisti le spiagge del territorio di Castellabate. Lo scenario che si è presentato il mattino seguente agli occhi degli operai della Castellabate Servizi è stato plastica di ogni tipo, lasciata sulla sabbia, bottiglie di alcol e tanti altri rifiuti. Nelle notti scorse e fino all'alba alcune spiagge libere sono state letteralmente in vase da centinaia e centinaia di ragazzi che, organizzati con musica e alcolici, hanno dato vita a feste, chiaramente vietate, senza alcun rispetto delle norme anti-covid e del divieto di consumo di alcolici dopo le 22 in spazi pubblici, lo fa sapere il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Sul posto erano presenti il comandante della Polizia Municipale, cinque agenti, il comandante del local mare di San Marco di Castellabate, che hanno provveduto a fare controlli, dai quali sono scaturiti accertamenti ancora in atto. È del tutto evidente che la scarsità delle risorse in campo, peraltro impegnate su vari fronti, rende difficile fronteggiare questi numeri, sottolinea il sindaco. Le foto e il video sono la dimostrazione della totale indifferenza e dispregio delle regole, eppur comprendendo la voglia di stare insieme di giovani e giovanissimi trasmettono un senso di sdegno. A ciò si aggiunge la devastazione con rifiuti e oggetti vari sparsi dappertutto, che gli operatori ecologici sono costretti a rimuovere il giorno dopo. Le istituzioni, come sempre, fanno e faranno la loro parte, ma è indispensabile ridurre il tutto ad un'assenza di controlli. È uno scaricabarile, probabilmente per assolversi da parte di tanti genitori che consentono ai propri figli di rimanere fuori casa fino all'alba e oltre. Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Capitaneria di Porto, va tutto il nostro ringraziamento, conclude il sindaco, per l'impegno e il sacrificio che mettono nell'espletamento del servizio a qualsiasi ora del giorno. Un forte grazie agli operatori ecologici.